Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e oggi cosa facciamo? Oggi vogliamo fare insieme un piccolo campionato, creare un piccolo campionato con il software Content Manager. Penso che voi sappiate cos'è Content Manager, è un'applicazione a parte che gestisce il nostro simulatore preferito, il simulatore di guido ha preferito Assetto Corsa e quindi rende Assetto Corsa molto più completo di tantissime funzioni e tantissimi dettagli. Spiegare tutto Content Manager è veramente un po' complesso, ci sono tantissime funzioni. Piano piano magari se riesco farò anche degli altri video su altre funzioni. Oggi invece cosa vogliamo fare insieme? Sappiamo che molti di noi hanno nel proprio hangar delle macchine, delle auto scaricate, acquistate, bellissime. Ci piacciono tantissimo però ci facciamo dei giri offline così da soli in qualche pista oppure creiamo una piccola gara singola. Ma la cosa ha un attimino, diciamo dopo un po' a poco mordente. Quello che è carino magari è crearsi un campionato ovviamente offline con delle macchine che ci piacciono in maniera tale da gestire la cosa in autonomia, tutto offline, e divertirci anche per capire come poter gestire questo campionato e ce lo possiamo personalizzare nei minimi dettagli. Quindi senza dilungarmi troppo su questa intro, io andrei direttamente a farvi vedere come si inizia a creare un campionato personalizzato su assetto corsa. Abbiamo la schermata, quando apriamo abbiamo l'ultima schermata utilizzata, benissimo. Noi dobbiamo andare in content, in alto a destra vedete qui la schermata content, in content andiamo su miscellaneous, vedete a sinistra, sotto user championship, ok? Quindi campionati definiti dall'utente. Io ne ho alcuno, alcuni, però adesso ne facciamo uno da zero, uno proprio ex novo. Quindi andiamo qui, clicchiamo su create a new one, sul più in basso, vedete qui in basso a sinistra, c'è il più per creare un nuovo campionato. Allora, clicco sul più, mi apre questa schermata, la chiama, lo chiama il campionato, my championship, ovviamente noi andiamo qui e lo nominiamo come vogliamo. Quindi cosa vogliamo fare? Diciamo che, così, per test facciamo un campionato di LMP900, no? Auto che sono le, come dire, prototipi della classe LMA, un prototype degli anni 2000-2003 che mi piacciono un sacco, veramente tante. Ho un pacchetto dei VRC con quattro prototipi bellissimi, veramente, ragazzi, se qualcosa mi piacciono veramente tanto, però non ci sono server online, è difficile trovarli, ma le macchine sono fatte di un bene pazzesco, veramente io, che dirvi, vi consiglio queste auto se vi piace la tipologia. Diciamo, lo chiamiamo come campionato LMAG, Leman Series, LMP900, sto dando un numero, 9000, no? Sto dando un numero, un nome a caso, potete chiamarlo come volete, TCR Italy, volete fare il TCR, volete fare, che ne so, il GT3 Italy, campionato italiano GT3, potete chiamarlo come volete, potete creare quello che volete. allora do l'enter e lui memorizza il Le Mans Series 900 ovviamente lui parte con una base di Fiat 500 la macchina che io voglio utilizzare clicco sull'icona della macchina, sull'immagine della 500 quindi della macchina e vado a cercare la mia macchina quindi abbiamo detto che voglio fare questo campionato con le VRC ok, con le auto VRC quindi io la mia macchina, quella che utilizzerò per tutto il campionato per dirvi io voglio utilizzare l'Audi R8 che è fantastica, mi piace veramente un sacco ho delle livree, posso scegliermi ovviamente la livrea ok, questa sarà la mia auto del campionato qui a destra ho gli opponents quindi le auto che concorreranno in quel campionato tutte le auto che saranno in quel campionato quindi vado a cliccare sulla X per togliere le Fiat 500 clicco sul più e mi vado, allora, VRC nel campo di cerca perché e vado ad inserirmi ancora R8 un'altra R8 mi vado ad inserire la Bentley Speed 8 che è un'altra macchina spettacolare un'altra, cliccando semplicemente due volte la Cadillac No Star bellissima ragazzi un altro prototipo mamma che motore che ha, quanta coppia, bellissima ne metto due e poi dovrei andare a prendere anche eccola qui, la Panos bellissima ragazzi è l'MP01 Evo mamma un'altra macchinona con un motorone una coppia esagerata quindi vado a mettermi anche la Panos diciamo che mi bastano queste potrei mettere tutte le auto che voglio cioè io posso inserire qui qualunque tipologia di auto voglio fare due classi voglio mettere le GT3 metto GT3 per esempio per cercare qui posso mettere io per esempio la M4 GT3 la M6 GT3 la Z4 la 488 GT3 cioè io qui posso mettere tutte nel mio campionato posso inserire tutte le auto che voglio la Marcos Mantis guardate mi è apparsa la Marcos Mantis che è una macchina veramente di quegli anni ma veramente bella mi piace veramente un sacco è una mod free carina si guida benino non è eccellente ma è bella ma è molto bella quindi così è apparsa vi ho parlato della Marcos Mantis perché è apparso così il pop up della Marcos posso mettere qualunque macchina qualunque ok quindi io mi creo un campionato ad hoc personalizzato non sono vincolato da classi non sono vincolato da nulla posso gareggiare con qualunque auto posso fare un campionato di solo di che ne so di di Ginetta G55 GT3 voglio solo un monomarca di Ginetta faccio solo di Ginetta cioè non sono vincolato a una classe specifica o una determinata auto specifica in funzione di quella che io ho inserito come mia auto quella che utilizzerò io nel campionato allora abbiamo inserito due Audi Re 8 due Bentley Speed 8 due Cadillac e due Panos veramente eccezionale abbiamo queste auto in griglia e il nostro campionato inizia a prendere vita quindi abbiamo un Audi Re 8 come macchina nostra posso andare a cambiarla e questi gli opponenti diciamo un piccolo campionato perché abbiamo poche macchine in griglia ma questo è un esempio voi potete aggiungere tutte le macchine che volete fin quando la griglia dei circuiti che andremo poi ad inserire adesso non viene riempita perché se avete un circuito che ha 20 auto e voi ne mettete 30 chiaramente non ci saranno 30 auto in pista ma ci saranno 20 ma questo è un dettaglio andiamo a cliccare Detailed Settings ok accanto al più a destra dove ci sono gli opponents c'è questa finestra Detailed Settings clicco mi apre il dettaglio delle auto che io ho come opponenti posso anzi devo o le sceglie lui random scegliergli la skin la skin che io voglio che ci sia in quel campionato altrimenti lui mi prende una qualunque delle skin inserite io voglio questa qua della seconda Audi voglio quella Sport UK Alms della Bentley voglio la mia Le Mans la numero 7 poi l'altra voglio la Bentley 2003 Le Mans la numero 8 della Cadillac io voglio 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 la Cadillac numero 6 poi la Cadillac numero 7 e la Panos voglio la Panos Sport Car Team la numero 17 del 2002 è la numero 18 del 2002 ok la nazionalità è random a viceversa posso inserire tutti i dettagli che voglio tutti i dettagli che voglio Strength Strength è la forza l'aggressione l'aggressività di ogni singolo componente sappiamo che in alcuni campionati ci sono auto migliori auto peggiori piloti migliori piloti peggiori in questa in questa in queste due sezioni io posso andare a definire la forza il livello di forza il livello di aggressione di ogni singola macchina quindi se voglio che le auto e Audi siano le più forti in assoluto per dirvi io li metto per dirvi una forza del 95% un'aggressività non so del 50% ok le metto entrambe con la stessa più o meno ok poi voglio che la Bentley sia un filo sotto come forza che ne so gli vado a mettere un 93% di forza un 45% di aggressività l'altra Bentley magari ha dei piloti meno forti gli vado a dare 90% gli vado a dare un'aggressività di 40% e viceversa adesso non sto a perdere il tempo le altre auto voglio che la Cadillac magari è la più scarsa del gruppo è un po' quella un po' nelle retrovie gli do una una forza del 75% e un'aggressività di 15% quest'altra 70% l'aggressività ne so gli do 10% diciamo che la Panozza invece potrebbe essere un intermedio gli do un 85% e un'aggressività di 35% oppure qua gli do un 83% e un'aggressività di 32% ecco questo potete personalizzare come volete poi i Ballester e Restrictor potete lasciare a zero diciamo sono sì ininfluenti diciamo sono le zavorre però diciamo che le voci principali sono appunto inserire la skin che rimane sempre quella per tutto il campionato eventualmente se volete la forza e l'aggressività di ogni singolo concorrente nel vostro campionato ok in maniera tale da avere delle gare equilibrate dove l'Audi in tutto il campionato risulta sempre essere la macchina un po' più superiore alle altre ok solo per questo fatto questo modificato io posso mettere anche il mio qui le restrizioni le mie zavorre ma io lascio tutto a zero questo perché non è non è è ininfluente ai fini del campionato cioè è un dettaglio troppo che appesantisce troppo tutto il discorso del campionato vero e proprio quindi andrei a limitarmi ad inserire solo la forza e l'aggressività se volete viceversa lasciate in auto che lui in automatico gestisce i vostri avversari con l'intelligenza artificiale sua in maniera completamente random se volessi salvare questo preset che io ho di opponenti posso salvarlo faccio save preset gli do un nome gli dico che ne so si chiama le man series lmp900 salva e lui mi salva il preset in maniera tale che lo posso andare sempre a richiamare nel momento in cui voglio creare un nuovo campionato mi richiamo il preset senza andare a reinserire tutte le volte le auto la forza l'aggressività di ognuno quindi questo è anche una cosa molto carina qui add se voglio aggiungere ancora un'altra macchina close semplicemente io chiuso infatti se riapro mi resta in memoria quello che ho inserito sia come livre sia come forza come aggressività a questo punto siamo pronti beh no non siamo per niente pronti grid type custom quindi questo non ve l'ho detto praticamente se volete inserire auto sempre diverse se volete fare un monomarca potete mettere il same car e lui praticamente vi fa il monomarca tutte le auto che andrete ad inserire sono le stesse della stessa macchina andrete solo a cambiare le varie skinne per ogni auto se volete fare tipo un Ferrari 360 challenge un Ferrari 488 challenge e ovviamente farete same car perché la macchina sarà sempre la stessa il numero degli opponenti ovviamente non si può gestire e lo slide non è gestibile perché ovviamente è basato su quello che io ho inserito qui ok infatti io sono 2, 4, 6, 8 opponenti avversari e io non posso muovere questo slide lo slide lo potrò muovere nel momento in cui faccio same car e andrò a gestire quante macchine voglio uguali con lo slide generalmente questi slide servono per la forza generale di tutti gli opponenti e io posso spostarlo come volete tipo io voglio che in linea generale questi sono i dettagli quelli che ho inserito qua sono i dettagli singoli di ogni auto di ogni pilota questa è la forza generale che i miei avversari avranno proprio dal punto di vista generale voglio metterla come voglio non so 93% poi ho questi due cursori che posso allargare allora il sistema cosa fa io avrò 93% di forza con un più o meno dell'1% di forza come range quindi la mia forza il sistema potrà variarla questa è una funzione anche abbastanza interessante posso espondere il range anche molto più ampio 3% come potete vedere 93% resta la forza ma io ho un più o un meno 3% di forza che il mio la mia intelligenza artificiale andrà a gestire stessa forza stessa cosa per l'aggressività degli opponenti andrò a mettere che non so 28.6% diciamo una cosa stessa cosa qui posso andare a prendere le due parentesine le vado ad aprire la mia aggressività sarà 28.6% ma con un con un margine in più o in meno del 13,1% in questo caso queste sono cose che sto mettendo a caso poi ognuno se lo può personalizzare come vuole quello che vi consiglio io ecco di andare non troppo troppo con questa con questa funzione quindi diciamo che avere comunque un margine del 3% qui è più o meno qui del dell'1,5% ci sta la forza totale dipende dalle costre delle vostre abilità di guida ecco dipende io normalmente viaggio tra il 95 il 96 insomma so in questo range qua di forza del punto di vista dell'aggressività più o meno dal 30 al 60 cioè un 50 ci sta ci sta bene ci sta ecco ci sta bene per quanto riguarda le mie poi dipende molto dai circuiti dalle auto dipende tanto anche questo valore quindi poi ve lo andate a settare un po' in maniera più dettagliata quando riuscite a capire cosa sta facendo la fisica l'intelligenza artificiale con gli avversari quindi in quel caso potrete andare a ricominciare il campionato perché una volta che avete iniziato il campionato non potete fare più nessuna modifica ok però potete ricominciare il campionato quindi restart da zero e dite ok ho capito come va sto campionato quindi l'aggressività me la riporto che ne so dal 50 al 40 al 35 la strength quindi la forza la vado a mettere al 90 piuttosto che al 96 perché i miei avversari mi sono sembrati troppo veloci io stavo proprio dietro dopo due giri mi avevano dato 10 secondi e lì ovviamente andate a gestire la cosa in questi termini questo per quanto riguarda le auto che devono partecipare al campionato adesso invece andiamo a vedere i circuiti perché io rounds qui vedete qua ciò cars illuminato a destra in alto vado su rounds lui mi dà già di default due circuiti io li vuoi cancello non mi piacciono ok lasciamo il primo circuito imola per esempio ma mi piace imola non lo so vabbè diciamo che partiamo da imola a che ora voglio che inizi questa gara alle 13 no questa la prima gara di campionato è di iniziare alle 6 alle alle 6 un po' presto mettiamo alle 9 dai alle 9.04 del mattino qual è la temperatura che voglio che ci sia in pista 18 gradi per esempio mi posso gestire la temperatura oppure una gara caldissima d'estate magari ci sono 34 gradi e mezzo il meteo vado a gestire il meteo potrò mettere un meteo random originale che ne so con le varie funzioni di assetto corsa se avete la mode sol potete impostare il meteo che più vi piace con la mode sol quindi posso dire la gara di monza sarà con un heavy rain quindi pioggia pesantissima il tipo di tracciato quindi il livello di aderenza del tracciato quindi dusty quindi con molta diciamo polvere per dire sul circuito è molto scivoloso oppure lento il circuito verde veloce è ottimo un circuito quindi è ottimo immettiamo che il circuito sarà ottimo quanto voglio che duri la mia prima gara a Monza a Imola boh facciamo 25 giri ok autodromo Enzo e Dino Ferrari descrizione della quindi la mia prima gara sarà a Imola partirà alle 9 del mattino temperatura 34 il meteo sarà completamente clear pulito ottimo quindi condizioni eccellenti posso anche inserire le real condition quindi il sistema in realtà andrà a ricopiare le condizioni più o meno realistiche che in quel momento ci sono in quel circuito che è una bella funzione però ovviamente se lo fate d'inverno ecco magari avrete ovviamente un po' temperature un po' basse non è precisissimo il sistema delle real condition non è precisissimo però potrebbe essere una bella cosa che diciamo aumenta un po' il realismo ripeto se lo fate d'inverno magari vi fate una gara con zero gradi magari in un posto molto freddo non so non so d'estate magari è più carina come cosa come real condition d'inverno è meglio secondo me ricreare delle condizioni fittizie di una ipotetica stagione estiva l'omoduto applicatore del tempo non ci serve questo schedole delle rounds lo lasciamo deflaggato questo è il primo round che magari io voglio ovviamente io voglio fare altri round posso creare con create new mi vado a trovare che ne so monza il secondo round sarà monza prendo monza inserisco e qui la stessissima cosa a che ora partirà la gara di monza boh alle 16 e 20 e 16 e 17 la temperatura monza beh non sarà caldissimo saranno 24 gradi stessa cosa il tempo e così via io posso andare quanto durerà la gara 21 giri è la stessa cosa un altro circuito andiamo qua direttamente alle man quindi andiamo al circuit della sorte delle man quindi andiamo nella 24 ore di giorno tac e quindi a che ora partirà la mia le man alle 13 diciamo alle questa parte alle 10 06 qua potete personalizzare come volete poi cliccate sul 06 perché a volte è difficile beccare l'orario giusto 06 cliccate sull'orario con la tastiera 0 0 tac e vi riporta alle 10 corretto ok quindi perché a volte lo slide è difficile andare a beccare il minuto esatto 15 16 e 17 e andrò a beccare così 16 e 0 0 a volte mi fa impazzire allora lascio 15 e 53 oppure lascio 16 e 14 clicco così vado sul 14 2 volte 0 e mi ha portato alle 16 stessa cosa per la temperatura impostabile anche con la tastiera con lo slide alle man voglio che il meteo sia che ne so ci sia sabbia dust sand quindi ci sarà della sabbia nell'aria come se fossimo nel Bahrain per dirvi no vabbè irrealistico però e magari il circuito è un po' slow quindi abbiamo un'aderenza differente quindi ecco ragazzi questo per farvi vedere che potete personalizzare tutte le singole gare del campionato come volete questa è veramente una cosa molto 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 bella perché potete davvero fare il vostro campionato cucirvelo addosso con la macchina che volete i circuiti che volete i giri che volete sul circuito come sia il circuito a che ora dovete partire com'è il tipo di tracciato l'aderenza del tracciato e quanti giri dovete fare insomma è una cosa veramente molto cucita sulla propria sui propri gusti personali quindi continuiamo create new potete inserire tutti i round che volete ok di tutti i circuiti che voi avete installato su assetto corsa sulle regole informazioni e regole cliccando sempre in alto a destra io qui posso andare a definire alcune alcuni parametri come voglio le penalità voglio che ci siano le prove pratiche ok 30 minuti di prove pratiche sono troppi mettiamo 10 minuti di prova pratica qualifiche quanti minuti di qualifica voglio voglio fare questo per ogni gara per ogni gara facciamo le qualifiche 30 minuti quindi 10 di pratica 30 minuti di qualifica poi la penalità for jump start quindi nel momento in cui c'è una partenza anticipata quindi che penalità voglio il pit disabilitata completamente o il drive through quindi posso decidere qua posso decidere i punti da assegnare agli vari classificati lui di default mi dà 10 punti al primo 8 al secondo 6 punti al terzo 3 punti al quarto e così via io posso decidere quello che voglio posso decidere che al primo devo dare 35 in base alle regole di questo campeonato 35 punti al secondo ne do 20 al terzo ne do 15 al quarto ne do sì vabbè adesso ho fatto con la tastiera diciamo 20 abbiamo detto al terzo ne do 15 al quarto ne do 10 e viceversa e viceversa scusate potete continuare così con il punteggio che voi volete assegnare per ogni posizione ok oppure lasciate quelle di default che aveva già messo lui 10 8 quelle che erano potete questo potete gestirlo questo vale ovviamente per ogni gara quindi è il punteggio del campionato quindi per ogni gara al primo andranno 35 punti al secondo 20 punti poi avrete la classifica generale nel secondo momento poi potete aggiungere dei punti per il bonus lap per la pole diciamo potete andare a dire ok se fai il best lap io ti do 3 punti in più se fai la pole ti do 2 punti in più per esempio ok a questo punto diciamo che il nostro campionato fondamentalmente è fatto perché non abbiamo tanto altro da inserire potete sicuramente qui cliccare su save tac ovviamente le mansilis lmp900 nella lista dei campionati da corsivo è passato al carattere normale quindi vuol dire che me l'ha salvato e io posso già iniziare il mio campionato come faccio per andare nel campionato nel mio campionato che ho appena creato drive in alto a destra qui ho championship in single cioè quick career championship vado in championship e qui troverò il mio campionato le mansilis eccolo qua vedete le mansilis lmp900 non c'è la preview potete aggiungere la preview se volete c'è l'immaginetta la potete comunque aggiungere sempre dalla funzione campionato come ho fatto io per alcuni qui ho aggiunto l'immaginetta però in questo caso non ce l'ho ma vabbè è un dettaglio clicco sul mio campionato clicco su start qui al centro e ovviamente non ho la preview vado su ok e questo è il mio campionato ok Umberto Noto sono io ho i miei avversari la mia prima gara sarà a Imola mi dà un riepilogo ok un riepilogo di quello che è la mia prima gara sarà a Imola poi la seconda a Monza e la terza a Le Mans e qui ci sono anche le le informazioni che ho inserito come come cosa troverò nel circuito come sarà il meteo e anche qui a che ora sarà la gara il meteo quanti giri quanti opponenti ho quanti avversari ho qua in realtà lo slide posso andare a gestire la difficoltà dell'intelligenza artificiale quindi ho ancora un parametro di rilegolazione in base a ogni singola gara fatto questo ovviamente io andrò a iniziare il mio campionato faccio reset faccio un attimo reset del campionato perché così ho modificato dei valori devo sempre resettare quando modifico i valori come vi ho detto una volta iniziato il campionato non dovete modificare nulla nel momento in cui modificate qualcosa state un po' trickando nel senso perché una gara la fate con una forza un'altra con un'altra forza non ve lo consente quindi io ho fatto reset perché avevo fatto un po' di modifiche e so che il mio campionato inizierà ad Imola questi sono i miei dati con Go vado su Go e lui automaticamente mi aprirà assetto corsa con la prima sessione delle qualifiche con la mia Audi R8 con i miei avversari che sono quelli che ho inserito nel nel mio nella mia lista di avversari se appunto come vi ho detto prima vi capita che dopo la prima gara vi rendete conto che gli avversari sono un po' troppo forti volete rimodificare la I perché l'intelligenza artificiale è troppo forte quindi andate semplicemente nel campionato così come siete adesso cliccate su reset perché per fare qualunque modifica dovete sempre cliccare su reset andate di nuovo sul mio content sul vostro campionato sui round oddio sulle car e vi andate a modificare la vostra forza vi andate a modificare dice madonna era troppo alta la basso l'alzo piuttosto oppure ma non sono poche macchine aggiungo quindi ogni volta che volete fare una modifica al vostro campionato volete anche aggiungere altri circuiti volete cambiare le regole dovete sempre andare in single championship nel vostro campionato quando faccio start non appena faccio start lui mi parte per fare tutte le modifiche del caso devo sempre cliccare su reset se non appena parto col mio campionato non posso più fare alcune modifiche questa perché ovviamente non sarebbe realistico insomma andare a modificare ogni round voi avete 10 tappe a ogni tappa vi andate a modificare la forza dell'aggressività non è non è realistica come cosa quindi viene inibita questa funzione niente questo è il modo più veloce per farvi un campionato in completa autonomia divertirvi soprattutto perché è veramente molto divertente il campionato fatto in questo modo e ve lo potete cucire proprio sulla vostra pelle come vi ho detto potete gestire auto gli avversari la forza i vari circuiti il livello di aderenza del circuito potete veramente andare a gestire il vostro campionato nei minimi dettagli questo è quanto spero di avervi dato un piccolo tip e se per qualunque altro consiglio qualunque altra info potete farmi qualche domanda qui sotto se posso se nelle mie competenze vi risponderò più che volentieri vi chiedo solo di mettere un like al video se volete iscrivervi al canale sarò felice e se avete qualche consiglio per i prossimi video se volete vedere un video magari su un dettaglio particolare di una funzione che non capite che magari poi può essere utile anche per tanti altri utenti valuterò anche l'idea di fare di seguire il vostro consiglio sicuramente apertissimo a tutte le vostre a tutte le vostre idee grazie mille di avermi seguito ci vediamo la prossima volta per un altro video ciao 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 Grazie a tutti.